Questo apprezzamento che utilizziamo per varie prove, abbiamo dapprima verificato la possibilità di realizzare produzioni agromicole secondo il metodo agricolo-biologico e successivamente abbiamo realizzato molte prove sulla fertilità e nell'ultimo periodo siamo passati a studi più sul sistema, incrociando studi sull'irrigazione, la nutrizione e sulla possibilità di diversificazione culturale in un sistema fortemente specializzato, qual è quello degli agrumi. Nell'ultimo periodo siamo passati anche alla gestione razionale dell'acqua, in questo momento infatti questo apprezzamento è utilizzato come campo di gioco, quindi sono sovrapposte delle prove di irrigazione deficitaria, ospitiamo anche un progetto sui fosfiti, altra emergenza dell'agricoltura e l'agricoltura biologica in generale. Abbiamo iniziato da un po' di tempo a questa parte anche a fare, a introdurre della tecnologia, del sensing prossimale e in remoto per la valutazione nel medio periodo della sostenibilità dei sistemi biologici.